Però ti voglio vedere, grazie e buona scuola. Buonasera, perdonatevi con la solita mozione, che non sono avverso a erbili. Adore il nord, stasera, vediamo un po', e parleremo di ricordi a confronto tra le mani generazioni. L'ha detto? Da quando vuole in alto, quando nasce felice, poi man mano che cresce, per i piangenti di passare, e continuerà sempre così. Vuol dire che era sempre peggio? Ma non lo so, per me. Ho passato un altro anno, e gli anni in catalana, e ho un'altra passata, da un'altra furia, e nel conto vanno andando. L'altra domanda è, è di St. Francisca, non è cagato nel vento, è in tre età. E c'è da senso, quando c'è dei tuoi dici, ma che hanno un dino? Ehi, come è? Da solo. E non devi tricicolo? Ok? Mi ricordo quando ero piccolo, non so, ma è che sei tu. Cosa stai a teggiore con te? E fa 70 anni, quando te metterai al mare? C'è il mondo del carattolo. Sa ricorda? Ancora mai? E' un mondo, cosa ha detto il suo carattolo? che sono messo senza parole. Ma non è un certo. E mi sono detto, che nel futuro, mio personale, in questo libro, da quando erano 13, 14 anni, stavo con gli amici, a sedere una pancina, a fare la fonte. in questo libro, ma c'è un altro carattolo e parlo, chiarito, perché è come i dici del prodotto. E' veramente lì, non è una roba scocciata. E' un ricchio. E' così caro. E lui vedendo, giocare a noi, scherzare con le trame, vuole intervenire nella discussione, e parlare un po' di sere, tendimenti con seguità. c'è, qualcuno che non era mai stato nascondato da nessuno. E ci raccontò, un episodio, di quando erano, stava a un fronte. Noi avevano da dieci anni, e poi, noi avevamo andato. A parte, ciò che traspariva, un orgoglio, di essere stato utile alla Patria. Cosa che era scompare, insomma. E poi, non mi so, ci dice, a fronte, c'era una stana, una tedesca. Andavamo mai, sono andata a prendere il lato. Lato, in pressione, in pressione, lui e altri soldati. Allora, in capitale, con altri due soldati, accompando a lui, da questa donna, tutti sono attenti. E difese, e non difese, rivolgendosi, alla notizia. Donna, tu stai male. Donna, tu avvastato, un soldato italiano. Guarda questa cassetta. Sia allora, piazzi, si conosce, e raccontando, si conosce ancora, che quella donazione, dovuta, al fatto che era stato difeso, perché lui era, un soldato italiano. Riflettendo oggi, dove stava chiesto il patrottismo? Vabbè. Comunque, su questa memoria, stava chiesto con un ritmo. Ma ancora, quando vengono due, ma passa la luna, e dunque, ma c'è, 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 e la è maggiore più grande. No, se non si punteva un po' diversamente, o chiedevi a te, a te o a te, quanti due, si punteva un bel succedere? Si punteva un succedere? Chiedeva, ma si punteva una vera, ragazzi, non si punteva un succedere. Questo è quello che mi faceva, però, io ho un po' di altro che si punteva un succedere. Io non sono punteva un bel succedere, ragazzi. Tutta cinastica. E quando ci venivano, vanno a dire, un stusco o meno meno, se cade una notte, non ha? Solo un succedere. E un bacio, e dicevano a voi, mangio, che questo è il bacio di Gesù. E' un sede, come anche tra l'occhio e la ciascola, a tagliare il bacio. Non è un sede, non è un sede. Non è un sede, non è un sede. Non è un sede, non è un sede. Non è un sede. E' il prego messo nel mondo di un'altra viva. Come in dalla cimlasa. C'è da fare foto? Cosa? Foti! Cosa! Cosa? 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 il tavolo è, la tua capiscia ma lo mangia il tavolo è e l'inglese ah, l'olico no qui c'è si fa, il ciugoletto ah, il tuo posto che lo sa fatte il ciugoletto si fa il tuo peggio è il tuo peggio ma non c'è, per così non c'è, non c'è, non c'è non c'è, non c'è, non c'è non c'è, non c'è, non c'è non c'è, non c'è i ragazzi di adesso non giochino più no stanno sapendo Facebook cliccando non c'è non c'è e in più non possono sudare stanno sempre se c'è sapendo che non fanno a sudere non c'è ma c'è non c'è non c'è c'è la cosa più bella allontanami no 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 non c'è ma ne facevano bene e ci sarà c'è un vozza vozza lozza 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 non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è l'uomo l'uomo io sono quando si mangia il quale quando si mangia il quale si mangia il quale non mangia le colazione si c'è l'accento il notiziente si è qualcosa si è qualcosa il lavoro è un modo la pena non so le persone si 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 se li che admiare io, siete cresciti ma d'instruzione per lo mangiare che mi possano dire che mi ha detto cresciti per il suo pezzi il prevede mosaico a la giocca a mellina e a qui lui e a qui lui e a qui lui ma che si non sei che credere adesso costumai per i oschi per i oschi la mamma che vuol dire com'è che sono il russo, la mamma che vedrà il tuo abbraccio, l'anni con voi, che vuoi la mamma, vuoi la russo, si, l'altro, spazio da mettere il mio osso, sono il giusto, vedi che... non ho visto la carta che è come un porto, ma da spagando Lowção, li conflitto, li dovevi aggiornare, spenderato poccio, figlio mio, che vuoi compresistro, quando si fanno quel fio ha spagnato nella mia mamma, spagna, mangio tre, quello, il capito eh, un po' cosa ne ha guarda, non mancava cosa mangiare, quasi mangiare guarda, ascolta quando a tutto la dava quasi si deve chiamare, non si deve mangiare no, no, tu in giro, tu in giro ma la prima cosa c'è, è una cosa di importanza ci sono anche la terra ma che cosa è? e quando vieni nel verso, ma c'è la fe non è nulla Cristo, non dice che non c'è la fe oh, beh c'è il pacchetto e non piatti, ecco il testo non c'è che adesso le nostre mamme mi chiedono azzettano i cittadini per preparare un gruppo con la popi che vuole la mamma? non c'è la fe mi voglio, 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 voglio far di fisseo che tu i mangio tei, i fisseo sono lei che mi fanno bene no lei vuole mi faccio di sorprendo no ma ci mamma e che tu voglio far, che tu voglio far e che tu voglio far ma basta forte ma c'è una storia fantastica direi, aggiornati ma basta forte tu sei di tutto vuoi dire ma la stella te la raccontei l'episodio tu insieme a me dire ma la vista non è che il mure d'un un martedone tutto là passando a foto non passa 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 a foto ma la foto che è la calda a foto il mio Ettore è una foto ovunque di mentora è cosa ovunque mi fai un fiumcitino ma c'è una cosa d足esina nel lungo un'ordata di guerra alle sono e io ando per mia che fanno ai che ma sono ai che si lo metto lo metto lo metto e 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 la mia l'america e lo metto e lo metto e l'amore e gli ho detto ma io mi chiedo quando vanno a scoprire il primo giorno sono e io non si immagino che ho fatto che mi chiedo e la mia ma non è un bel mio un bel mio, un bel mio, un bel mio, un bel mio allora qui, un segno non fa il segno tempo senza do ma non fa la segnatecca e dove ho visto il segno io penso qui che il nonno e il nonno e che non so perché la città da sempre che faccia la cosa sa che e la unica faccia la pizza e che faccia il nonno per esempio qua e la compagna di un filino cancello per non fare vedere come sei contato perché di vergogno c'è un'altra parte che c'è un'altra parte una grande gente maestro porta salta i telefoni paghi e non lo dimmi facciamo c'è un'altra parte maestro maestro è un'altra parte non lo chiamano maestro 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 dopo c'è questo dopo se c'è questo punto da l'unica decine se non si è andato se non cresce non passa la notte non va accumare l'altro nel cuore non vi occhi tutte scute un studente che ha detto dei galoni mi va bene scrivire qua fai tu sa? A te? che? A te? ma che chiusa no? � la mannere si sa se non il giun su facendo la giatta la giatta 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 i Io ci racconto, ma tu ci racconto, e chi è ci racconto? Io ci racconto? Oh, tu non lo sai! Ah, si può alzare! E se c'è la mamma qui, dove sei? Eh, e lo sconto! E' un rispondibile! E lo sconto! E non lo sai quando hai visto che sta a mezz'intituto in casa? Ma lo guardano, Giuffrey, dove sei? si è scritto in cameretta lo tragico allora diego di youtube assente e foge torri alla mia vita guardando un po' bene ahahahah passino boh che si è scritto vieni la mamma che sta pronti il pranzo che tanto ti piace ma te lo ecco si è scritto bubba non ho fame ahahah ma non è una stessa intervista ma non è una stessa intervista no e no e si perchè perchè figlio o figlio che non devi rinnoverare il piatto e sapete che mancia le tue no perchè non può fare ma no ma non più non è una stessa intervista non si può fare vieni a presto va non puoi scuare ma non puoi scuare perché si può scuare ti hai mai come sei vieni guarda c'è non puoi scuare ma te non puoi non puoi e quello si dice Invece a che sono? Tu mangi un'azizia di un scopo che è caos? Seguimi Allora, giù con me Fermi tu Articolo 25 Tu non puoi metterne lo sguardo Perché ti metti a scocchi sul ragazzo E se ti sentite di proverarmi Io chiamo il telefono azzurro Perché tu ti stai maltrattato Ah, ragazze, vada qui E la scopo E la scopo Non puoi metterne lo sguardo Non puoi metterne lo sguardo Non puoi metterne lo sguardo E qual hai visto da bifAR? Eh Allora, scopo Allora, scopo Sei un professore qualcuno Te la vostra niente La fatica tende Perché non si chiamo in Paris Per educarci Per educarci Per educarci Quando ti va a cazzo? Perché tu ti vuole? Perché tu ti vuole? vedi un anno eh 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 visto? più valdori, più valdori che si casero la stocca suzza fa un pozzotti ma mamma papà trenta secondi è diventa una passata eh dai, già va la vita ho veramente indietro ragazzi non mi sei comportato ho uscito in tutta parte io mi sono detto che il soggetto in controllo a il proveretto mi lo ho finito la parte a tutti quanti ho 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 hai com'è assolto ma partita non ci stiamo va gir weg è super doloroso che some mostratami esa ma non è che mi ha detto un bucciotto in mezzo alla stessa io li vado a scrivere che quando cammino penso ma forse e sto usando il tabelletto per camminare ah no, io si scopre a prendere ma no, ma no prima domanda, domanda se vuole a quale ci spalla ma dovete fare qualche cosa non ci vuole,illas Beni mi sono giusto procic Stacy quella che c'è non lo vuoi semplpped pensate che non sta vivendo ma si di tutti vanno aار di mezzo e ci hanno chiesto se lo stimo giunga la macchia qualche volta la macchia è famoso giungo tra la cintopè la cintopè la muscolò c'è qualche incontro nel contestaggio e qualche ma va a come va a come c'è il titolo che fa la testa alla tenda di alzare così e 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 andiamo al giardino e 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 ed è una cosa bella ricordare i nostri nonni anche specialmente se non ci sono più di una terra ma sappiamo che il cielo sono i nostri angeli di costruzione grazie i nonni sono le radici e come assorto ci dà l'importanza ai conti che non le radici stanno sotto terra questa applausi vecchio diranno che sei vecchio con tutta quella forza che c'è in te vecchio quando non è finita hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è ma sei vecchio ti ti chiameranno vecchio e tutta la tua rabbia viene su vecchio sì con quello che hai da dire ma va di quattro lire dovresti già morire tempo non ce n'è più non te ne danno più non te ne danno più e ogni male fa più male tu risparmi il fiato prendi presto prendi presto tutto quel che puoi e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco per ogni pelo bianco